Benvenuti, abbiamo con noi oggi Rodolfo Mandelli che è Sales Manager di ShaveMode. Oggi parliamo di stampa 3D alimentare con ShaveMode che commercializza e addestra persone a usare stampanti 3D, ma una cosa che ha colpito tantissimo è una notizia uscita recentemente sui giornali che KFC, Kentucky Fried Chicken, ha deciso di intraprendere una rivoluzione e stampare i propri nuggets tramite stampa 3D, una cosa che fa un po' rabbrividire però è il futuro che incalza e diventa presente. Quindi Rodolfo vorrei che tu ci spiegassi che cosa oggi si può fare con la stampa 3D. Diciamo che la stampa 3D in questi ultimi anni sta entrando in una maniera sempre più prepotente nell'ambito a 360 gradi di quello che è un discorso produttivo indipendentemente dai vari settori. Nell'ambito del food c'è una costante ricerca di abbinamenti di sapore, però negli ultimi anni si è portato avanti anche un discorso di ricerca di forme per stupire sempre di più, per attirare sempre di più l'attenzione e qui la stampa 3D entra a gamba tesa perché è proprio il suo ambito. Cosa può fare la stampa 3D? Abbiamo due modalità di utilizzo nell'ambito del food, come potete vedere la prima è un utilizzo diretto, ovvero quando uno genera diverse tipologie di impasto di materie prima, lo inserisce all'interno della stampante e realizza dei prodotti, dei file, dei modelli 3D, delle scritte, degli oggetti utilizzando direttamente la materia prima. Quindi una prima possibilità è stampa 3D del mio materiale. Quindi io posso farmi un oggetto di marzapane con la testa del mio vicino di sopra che mi rompe le scatole e me lo mangio come antistress. Bravissimo! Oppure posso farmi una scansione e ricostruirmela quindi ad un evento, stampare dei modellini da poter donare agli ospiti, un logo aziendale, soprattutto dei richiami a secondo magari dei periodi per Halloween, dei particolari di Halloween, delle zucche da poter, nell'ambito della registrazione delle zucche da poter riempire con dei vari contenuti. L'unico limite è la fantasia, mi sembra di capire, la fantasia è la creatività. Allora, nella stampa 3D il limite vero proprio è la fantasia, perché permette di concretizzare delle idee che uno ha in testa e prima magari riusciva a fare qualcosina con molta difficoltà. Qui invece con la stampa 3D è molto più semplice e permette soprattutto anche una produzione seriale. Certo! Il secondo percorso che si può fare con la stampa 3D è un percorso in diretto invece. Quando io ho degli oggetti magari più complessi o delle produzioni più particolari, posso realizzare con le stampanti 3D il master, quindi la base e utilizzando questo master posso creare degli stampi a silicone o in termoformatura per poi realizzare il mio oggetto finito. Vedi magari stampi in silicone per il cioccolato o per altre applicazioni particolari. Quindi hai creato lo stampo e lo riproduco tutte le volte che voglio. Perfetto! Soprattutto il concetto della stampa 3D è che posso realizzare degli oggetti personalizzati ed esclusivi, quindi non prendo dei prodotti di serie ma faccio degli articoli che sono personalizzati, quantitativi piccoli o quantitativi un pochettino più consistenti. Allora è lo stesso processo che è avvenuto anche in altri settori, ad esempio la stampa digitale. Un tempo fare un volantino era una roba che ne stampavi 5.000 copie e non ne valeva la pena, adesso ne puoi fare anche solo uno e ha un costo comunque accessibile. stessa cosa potrà avvenire in questo modo. Esatto, perfettamente è il concetto della stampa 3D. Ma per saper utilizzare una stampante 3D, quali competenze bisogna avere? Qual è il processo che bisogna saper padroneggiare? Beh diciamo che nell'ambito del food innanzitutto bisogna avere una conoscenza della materia prima perché è necessario poter realizzare dei vari nella fase di stampa diretta, dei componenti con varie densità, le temperature di utilizzo. Poi la seconda necessità è quella di avere un minimo di conoscenza di modellazione 3D semplificata appunto da abbinare alla tipologia di impasto che io vado a utilizzare. quindi da un'idea, da uno schizzo, ci sono dei software che mi permettono di predisporre il file che poi sarà utilizzato sulla stampa. Quindi sono software della famiglia di AutoCAD per intendersi? Sì, diciamo in una versione più semplificata in questo ambito alimentare, però è necessaria una conoscenza bivalente, nel senso io devo poter capire il mio impasto con la mia consistenza e con una determinata temperatura quale oggetto tridimensionale posso essere in grado di realizzare. Quindi per quello che è necessario è un minimo di conoscenza di modellazione semplificata 3D, un minimo di conoscenza nell'ambito dei software, sia di modellazione che di trasmissione dati e la conoscenza vera e propria della materia per poterla utilizzare. Questo ci tengo a dirlo appunto all'interno del corso che stiamo promuovendo, che mira a formare la figura di un tecnico superiore specializzato nelle tecnologie 4.0 per la ristorazione, è previsto un modulo tenuto da esperti proprio di Shape Mode per imparare a usare la modellazione 3D, a realizzare dei piccoli oggetti e anche a stamparli. Quindi chi frequenta il corso, che avrà la fortuna di fare questa esperienza, avrà la possibilità di imparare anche questa tecnologia. Ecco, l'ultima cosa, opportunità di lavoro, ce ne sono? Opportunità di lavoro stanno crescendo giorno per giorno perché come in tutti gli ambiti la specializzazione a 360 gradi sta crescendo. Noi abbiamo dei clienti ai quali abbiamo venduto l'hardware, quindi la stampante, che mi stanno richiedendo delle figure come quelle che ho rappresentato prima, perché oltre a conoscere lo strumento, a saperlo far funzionare, bisogna essere anche in grado di poter conoscere la materia prima, gli abbinamenti, fare degli accostamenti. Quindi ci sono proprio dei ristoranti, delle società di catering che ci stanno richiedendo queste figure, perché noi siamo in grado di, ti formo, ti faccio vedere come funziona la stampante. Poi cosa metterci, quali possono essere gli abbinamenti, non è il nostro campo. E purtroppo attualmente ci sono poche di queste figure, quindi è un momento che sta crescendo parecchio e ci sono parecchie opportunità. Certo, anche perché chi compra una stampante si accorge che poi il suo mestiere non è quello, il suo mestiere è fare il ristoratore, fare il pasticcere, fare l'organizzazione di eventi e ha bisogno di qualcuno che si applichi specificatamente a quello, come una figura davvero nuova, che adesso non c'è e di cui ci sarà bisogno sempre più, perché il ristoratore in questo modo potrà offrire dei servizi che finora non era in grado di offrire, quindi riuscirà a essere un passo avanti alla concorrenza, eccetera. È un po' questo che sta accadendo, quindi. Certo, sì, sì, è proprio esattamente questa situazione, la creazione di nuove figure che attualmente non sono disponibili sul mercato o a quanto ci si arrangia in qualche maniera, però la grossa preoccupazione che noi ci accorgiamo quando andiamo a proporre questi strumenti è appunto quello che hai detto, io compro lo strumento, poi chi è in grado di potermelo utilizzare, chi è in grado di potermi fare la produzione che mi serve e quindi queste figure stanno diventando un po' il fulcro indispensabile di questo percorso digitalizzato della cucina. Benissimo, io ringrazio Rodolfo Mandelli e Sheimold per la disponibilità, la chiarezza di questa intervista e auguro a tutti quelli che vedono di essersi incuriositi rispetto a questa tematica e di partecipare al corso dove imparare tra le tante cose anche a stampare comunque alimenti con la stampante 3D. Grazie Rodolfo e arrivederci a presto. Grazie a voi e arrivederci a tutti.